Oltre a tanta persone coinvolte, agenti coinvolti durante i grandi eventi che vediamo all'Eugano e allo stadio Geox, da oggi dovrà pagare direttamente Zed? Da oggi pagano i privati, in questo caso Zed, ma in altri casi altri privati che vogliono utilizzare con un impegno importante del corpo di polizia che è quasi totalizzante nei tre turni della giornata, debbono in una forma anche di rispetto verso la polizia locale, verso l'amministrazione, ma soprattutto verso il fatto che questi uomini vengono sottratti all'impegno sulla città e su tante altre cose che i cittadini attendono, tra l'altro con impazienza nell'ambito della sicurezza, quindi noi c'è un tarifario che esiste da dieci anni, non è che ce lo siamo inventati da quattro ore, però viene applicato, verrà applicato, poi è chiaro che troveremo delle sintesi tra la ricaduta che può avere di effetti positivi nella città a un evento come questo e il disagio che si viene a creare in città. Non ha intenti punitivi o di vessatori, è una forma di rispetto e di maggiore attenzione verso il lavoro di questi uomini che torneranno a essere la punta di diamante dell'amministrazione comunale e soprattutto il biglietto da visita. La città sta chiedendo molto in termini di sicurezza, che è molto inarretrato e quindi dobbiamo essere coscienti che quando per un giorno sottraiamo uomini al territorio in maniera così importante, ci deve essere una corresponsione dei privati.